Fu questo splendido panorama convincere Giacomo Puccini ad acquistare la villa di Chiatri che poi ha preso il suo nome. Una vista che adesso è stata recuperata grazie all'intervento del proprietario della villa, l'avvocato milanese Lionel Ceresi, e ad Enel Distribuzione. Sono stati infatti smantellati i 18 tralicci che deturpavano la visuale sul lago di Massaciuccoli, ne vediamo alcuni in questa fotografia, e la linea è stata interrata per un chilometro e mezzo. All'inaugurazione dell'intervento, avvenuta non a caso mentre è in corso il Festival Puccini a Torre del Lago, sono intervenute le autorità e ovviamente i vertici di Enel Distribuzione. I lavori sono stati eseguiti in diversi step a partire da inizio 2021 e si sono conclusi a fine luglio. Grazie a questo intervento siamo riusciti a innovare una rete che era qui presente e che era anche visivamente presente con molti sostegni e che ora invece è stata trasformata in una rete completamente interrata, quindi molto più efficiente, più resiliente, innovativa e che ci permette anche di godere di una vista sul lago che prima sicuramente era meno piacevole. Il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, ha ricordato l'importanza che ebbe per Puccini questa villa. Immaginate che questo luogo fu scelto da Puccini per la vista sul lago, questa casa veniva costruita in contemporanea, ricostruita perché si trattava di una villa San Miniati, veniva ricostruita in contemporanea con il rifacimento della villa del lago, quindi era un luogo stupendo dal punto di vista della visuale, dal punto di vista della capacità poi di offrire serenità perché Puccini aveva bisogno di questo per comporre di silenzio, di serenità. Una grande emozione per il proprietario della villa che lancia anche l'idea di un futuro utilizzo per l'immobile. Io vengo da Milano, ho visitato moltissimi posti nella mia vita, belli, brutti, bellissimi, ma questo è un posto che oltre a essere meraviglioso a un fascino che non si riesce a percepire, cioè non si riesce a capire da dove venga questa atmosfera che tutti quando vengono qui sentono e la sento anch'io dopo 20 anni, 25 anni dall'acquisto di questa villa che spero diventi un giorno un centro di eccellenza musicale.